Ciao ragazzi, qui Gabby ed eccoci a un nuovo video di Counter Strike Global Offensive Ho deciso di giocare a questo gioco intanto perché sto lavorando ad un video speciale Perciò mi serve un po' di tempo per farlo uscire E ho detto, beh, lasciamo qualcosa sul canale E ho deciso di fare un video veloce su Counter Strike insomma Intanto vediamo le novità che hanno aggiunto in questi ultimi mesi Abbiamo l'inventario Un posto dove tutte le armi che sblocchiamo durante il gioco Perché adesso sì, possiamo sbloccare armi nuove E sono armi commimetiche Con delle skin che possiamo pure vendere nel mercato di Steam E guadagnare anche soldi poi da spendere per altri giochi Quindi è una cosa bellissima Hanno aggiunto poi anche l'M4A1 silenziato di Counter Strike Source Però vabbè, non perdiamoci in chiacchiere Andiamo su gioca, trovo una partita E ho deciso di fare un po' di corsa alle armi stavolta Quindi andiamo con corsa alle armi e vediamo cosa riusciamo a fare Bene ragazzi, abbiamo trovato una partita Siamo, ecco, è appena finito il riscaldamento Questa è una modalità che ogni volta che uccidiamo uno Un'arma diversa si sblocca Aiuto, devo bloccare le comunicazioni Allora Blocchiamo le comunicazioni di sto tizio Così non sentiamo la sua voce Perfetto Corriamo Allora, là vedo il primo La prima preda Pingo un pochettino Ho il ping alto Perciò speriamo bene Qua è pieno Vediamo Qui sotto Qua dietro è corso uno Perfetto, l'abbiamo ucciso Abbiamo sbloccato una nuova arma Ah, mi hanno ucciso Però gli ho fatto 61 di danno Abbiamo ucciso un altro Adesso partiamo con i mitragliatori scarsi Abbiamo fatto fuori un altro Abbiamo fatto fuori un altro ancora Un altro ancora qui No, per un pelo Adesso abbiamo il mitragliatore, quello potente Dai Dai ragazzi che spacchiamo un po' di teste Ok, abbiamo fatto fuori un altro P90 bellissimo P90 bellissimo Fucile a pompa Andiamo nel retro col fucile a pompa Attacchiamoli da qui L'ho abboccato, sì, perfetto Un altro fucile a pompa Dai Dai ragazzi Un altro ancora Uh Dai vieni fuori amico Torna qui Torna qui Dove sono i terroristi? Dai Voglio una buona dose di terroristi Ecco Mi è arrivata Mi è arrivata la dose Mi è arrivata la dose Ma da dietro Non la volevo così Con F poi possiamo osservare pure l'arma Guardate che bella È un tasto che hanno aggiunto recentemente No, me l'avete ciullato Mi hanno fregato la kill Ok Altro fucile a pompa Andiamo a inseguire il pugiasco Ah no, l'hanno ucciso Ok, scappiamo da qui Che è la zona di respawn Ok, ne ho fatto poi un altro Oh, che bello Ora sblocchiamo I fucile quelli più potenti Questo qua col coltello Oh, abbiamo fatto fuori un altro La K47 ragazzi La K47 Non sapete che goduria Mettiamoci qui con la K Anche se abbiamo pochi HP Forse ce la facciamo No, no Erano tutti respawnati Nel punto dietro Eh, osserviamo la K47 Bella, 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 bella Mi piace Andiamo shiftando Vediamo qui Non vedo teste Voglio una testa Gabby Oh, amico Credevi che Non mi fossi accorto di te Ok No, me l'hanno fregato Dai, vieni qui tu No Era in fase Perché appena rispondono Non puoi ucciderli Devi aspettare un pochettino Perché sono Sono in fantasmino Brutta situazione Ok Oh, abbiamo fatto fuori un'altra Mamma mia Bella, bella Eh, scusate la mira Magari non è perfetta Ma Il fatto è che Aspettate ragazzi No Questa No Come mai non riesco a prenderlo Ragazzi sto failando Dei colpi Oh Alleluia Stavo laggando 100 Ragazzi sono a 130 di ping Con questo ping Bisogna fare solo una cosa Correre così Correre così Con i mitragliatori Poi passare Praticamente Correre a nastro Guardate qua che roba Dai ragazzi Ho quasi vinto Quasi vinto questo Tra un po' sblocco il coltello E se sblocco il coltello Perfetto Ne abbiamo ucciso uno Prima di morire Ora la P2000 L'arma più scarsa del gioco Aiutiamo il nostro amico Uuuuh Ucciso con l'arma più scarsa del gioco Mi dispiace per te Qua dal retro Oh Mamma mia Che è ciò Ragazzi ma cos'è Gabi è una macchina da guerra Ma Mi chiamano macchina da guerra Ah Aiuto Qua sono morto Qua sono bello Morto Grazie al cielo C'è il mio amico Aiuto ora Mi rincorrono Uuuuh ragazzi L'ho ucciso Non ci credo L'ho ucciso prima di morire Avete visto che colpi Scusate un po' per i frame rate Ma con tutta questa gente Il mio PC non lo tiene Più il ping È il ping che fa la gare Secondo me Ah Quello vuol fucire la pompa Ha rischiato però La Desert Eagle Non mi piace tanto Incante Strike Global Offensive Incante Strike Source Devo dire che era Migliorata Era molto più potente Qui Non è buona Vedete ragazzi Non prende niente Ah Ce l'ha fatto Un mio amico È stato pure più bravo di me E ha vinto Ok ragazzi Questa è stata una partita Un po' veloce Ho purtroppo fatto Un'arma nuova L'ha vinto subito E mi compro un gioco Perché alcune armi Valgono pure 10 euro Comunque ragazzi Penso che questo sia tutto Per questo episodio Velocissimo Di Canter Strike Era tanto per mettere Un video sul canale Spero che vi sia piaciuta Questa corsa alle armi E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi